Il trasporto pubblico terramano si riorganizza in vista della riapertura delle scuole di domani con l'incombenza delle misure anti-covid e l'incubo del traffico privato destinata ad aumentare in maniera considerevole. A spiegare le novità per i bus del trasporto urbano e i pullman del servizio suburbano per le frazioni è l'assessore ai trasporti del comune di Teramo Maurizio Verna. In tutto l'aspetto del trasporto urbano abbiamo deciso appunto di non ripartire domani con la linea 9 ma sarà la linea 8 che andrà al cimitero e a Villa Pavone. Una novità importante è che soprattutto gli utenti anziani che andranno al cimitero potranno scendere davanti al cimitero a differenza di oggi che con la linea 1 scendevano molto molto lontano. Un'altra novità è il ritorno al numero di corse sulla linea 1 barrato che erano state diminuite per far fronte alla linea 9 e soprattutto 17 corse giornaliere con il prolungamento della linea 1 quindi in via dei Melograni che è un nuovo quartiere della città e nuovo soprattutto popolato da chi ha potuto prendere una casa per il terremoto in quella zona. Un altro aspetto importante è il trasporto suburbano e cioè nelle frazioni del comune di Teramo non servite dalla tua daremo la possibilità a chi oggi avrà degli orari particolari perché come abbiamo saputo negli studi scolastici in città ci saranno entrate e uscite differenziate alle 8, alle 9 e 30, alle 12 e 30 e alle 14 quindi c'è uno scompenso negli orari del trasporto pubblico suburbano abbiamo disponibilità da parte dei gestori di fare delle corse in più. Dopo il botta e risposta dei mesi scorsi sul chilometraggio troppo scarso per garantire tutte le linee urbane prosegue l'interlocuzione tra comune e regione ma di soluzioni per le aree scoperte per ora ancora non se ne vedono. Noi stiamo interloquendo con la regione sul fatto che ne abbiamo bisogno è palese perché questa è una coperta corta per quanto riguarda il chilometraggio del trasporto pubblico locale perché abbiamo tantissime richieste ad esempio pensiamo all'area di Piano d'Accio e di San Nicolò che è come viene scoperta ma in altre frazioni abbiamo altre richieste e su questo vogliamo intervenire. Stiamo interloquendo con il sottosegretario D'Annuntis abbiamo una disponibilità nel parlare, siamo qui e vogliamo... Ma loro ce l'hanno la disponibilità a darveli questi chilometri o no? Loro devono trovarla la disponibilità.